Ciao a tutti ragazzi qui a WETO WETO Da Simone Pacello una crisi d'identità Siamo finalmente oggi trovati un nuovissimo video Anche perchè di vecchi video Non ne posso più E siamo tornati oggi finalmente Con l'ultima stramaledetta Puntata del collegio Basta non ne posso più Ecco l'ho detto posso dirlo Apertamente mi sono veramente Rotto le scatole del collegio Mamma 8 puntate sono troppe E' giusto portare al termine Tutto ciò che si inizia però ragazzi sono Veramente troppe 8 puntate L'anno scorso ne erano 6 e va bene Ancora ma 8 no Ragazzi se vedete poi la felpa che indosso Incredibile e meravigliosa è la felpa di Insane Insane è il brand di abbigliamento mio E di Riccardo Dose dove dopo più di Due anni di attesa tra mille Problemi siamo riusciti a realizzare la nostra Lì ad abbigliamento abbiamo qui per l'appunto Le nostre felpe qui abbiamo le nostre maglie Dove abbiamo anche la colorazione bianca E come sempre ragazzi io vi lascio tutti i link Per acquistare i capi di Insane qui sotto In descrizione il primo commento Però ragazzi siccome il video è lungo E la nostra vita spero sia molto 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 breve io direi Di iniziare subito Prima di iniziare con il video però ragazzi siccome ci troviamo All'ultima puntata io voglio che in questo Preciso istante qui sotto Nei commenti scriviate tutti Enzo Bidè camma fa Voglio veramente 20.000 commenti Con scritto Enzo Bidè camma fa Voglio i commenti invasi 20.000 commenti qui sotto al video Con scritto Enzo Bidè camma fa Perché vabbè che vabbè Enzo Bidè La puntata si apre subito con il presidente Ormai ho diritto presidente Vabbè ci sono certe cose che non cambiano nella vita Uno è il fatto che ti marro perennemente single Due che il preside io lo chiamerò per sempre presidente Che fa il riepilogo della settimana che sta per avvenire Nonché l'ultima settimana al collegio Al college Dove praticamente collegiali dovranno prepararsi All'esame finale Ragazzi mica pizze e fighi Viene appunto quindi stilata la lista Di tutte le cose che dovranno studiare Sono veramente tantissime Tanti c'è Gli fanno praticamente domande pure Come si chiamava il dottore che ti ha pastorito E non voglio conoscere il nome di quello dell'avvocato di Piero E allora i rappresentanti di classe Hanno la brillante idea di andare al preso e dire Scusate capo ci potete togliere qualche materia Cioè perché sappiamo che è un esame fondamentale Importantissimo del motivo per la quale noi siamo qui Però possiamo studiare di meno Ovviamente il presidente che cosa fa? Gli aggiunge altre cose da studiare Ovvero i vulcani Bravi Bravi Complimenti Ente bravi Complimenti ai rappresentanti Fatte le dovute presentazioni Il prof Maggi dà la possibilità ai collegiali di sostituirsi ai professori E purtroppo hanno anche la malsane idea di dire Avvocato di Piero prego tocca a lei Spieghi qualcosa che ama E quindi ho un po' paura Possiamo venire il signor di Piero E calla Senta io ne approfitterei adesso Ne approfittarò come dicono i più golosi Scusate non era in programma questa battuta? Chiedo scusa a tutti i profittarò So che lei è un appassionato di Papi Si è appassionato di Papi L'avvocato di Piero Già settimana scorsa ci ha fatto veramente due zebedei grossi così Regi abbiamo un contributo di tutto il disfacimento di c***o E' stata la decisione di Paolo VI di dividere tra portoghesi e spagnoli l'America Latina E c***o fa? C***o ma c***o non importa a me a focare E' mezzanotte io voglio andare a dormire Ma c***o fa con tutta sta storia di Papi Spagnoli e di Porto Ma c***o fa? C***o fa? Quindi non è che io so solo cose sui Papi Ma chi ti ha chiesto niente? C***o avete sentito che io sono veduto A voi ho detto Avvocato ma lei conosce solo cose sui Papi E che il 90% delle cose che ci sono nella storia sono sui Papi E c***o fa? C***o fa? Avvocato c***o fa? Nooo Di Piero che racconta la storia dei Papi Nooo Ecco diciamo che tutti non l'hanno presa benissimo questa cosa Attualmente c'è un Papa con un carisma immenso E cioè Giovanni Paolo II Mamma mia 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 I miei c***o Lui è un esempio di come è riuscito a cambiare la geografia del mondo Nadavo ma lui si è fissato con questa cosa della geografia Per lui i Papi sono tutti quelli che hanno cambiato la geografia Cioè Avvocato c'è pure l'ultima puntata Ve lo sto chiedendo in ginocchio Può piacere? Basta con questi Papi Quando sarò a casa e non riuscirò a dormire chiamerò Deepi Gli chiederò di raccontarmi la storia di Alessandro III del Papa di Polonia Il famosissimo Papa di Polonia Perché dire il Papa Polacco era troppo difficile Complicato comunque anche da dire Ha una platea un po' orizzontale Mi interessa Ringrazio il signor Zilliana per l'interesse Mentre gli altri Se ne possono andare bellamente a f***o Allora ragazzi so che Ma che? Come se fosse la presuisse? Persuisse ha complimenti Ma veramente la comunione è finita da poco Non ho capito perché lei è ancora vestita da confetto Preside vi ha affidato un argomento in più per gli esami I vulcani Deve a confondere con i vulgatti Perché sono... Cioè c'è proprio una cosa Cioè proprio non si soppostano Cioè sono proprio vulcani e vulgatti Vabbè andiamo avanti Signor Dago Che vulcani ci sono in Italia? Ecco sentiamo signor Dago Etna che si trova a Napoli giustamente Giusto Giusto L'Etna si trova a Napoli Non si trova più in Sicilia una volta Si trovava in Sicilia Infatti l'Etna spusta Una delle grandi eruzioni del Vesuvio È stata nel 79 dopo Cristo Nel 79 dopo Cristo Quindi un'infinità di tempo fa Pompei Che ricordiamo non è un verbo al passato Per i più maliziosi Signorina Scoia Miglio Io lo conosco Ah la signorina Scoia Miglio A quanto pare lo sa I suoi genitori già c'erano Signorina Scoia Miglio Lei è figlia di cosa? Di due dinosauri? Che chiedo per un amico Magari se li portano bene Nel 79 dopo Cristo I suoi genitori erano nati Ma può darsi Viviamo in un mondo così irrazionale Che ormai tutto è possibile Il collegio mi ha totalmente fottuto il cervello Posso una piccola interruzione Perché proprio qua Esattamente qui È il punto dove per la prima volta Mi sono rotto i c***i Ma signor Presidente Anche lei Un po' di decoro Nella camera magmatica Gli antichi Si erano immaginati Una fucina In questo caso Una fucina a gas Mai saputo che esiste Una professione artigianale Il fabbro? Sì Ci stava tipo un dio Che aveva la gente Ci stava tipo un dio Un dio fabbro? Gli antichi Credevano che uno dei figli di Giove Che in Grecia si chiamava Efesto Lui veniva cornificato dalla moglie Ma come veniva cornificato dalla moglie? Cioè il figlio di... Cioè Efesto veniva cornificato dalla moglie? Ma c'è proprio scritto nei libri di storia questa cosa Perché la moglie andava con un altro Ma magari Sava Ma signorina Magari uomini e donne Ma che sta succedendo? Signorina Scarano Lei riduce tutto a... Questa cosa me la ricordo Che cosa è successo? Perché praticamente All'emedi l'ho fatto Eh Che c'era un dio dentro Dentro al vulcano Che faceva il fabbro? Faceva il fabbro? Stava là tutto il giorno Che martellava E mentre questo lavorava La moglie faceva lei corna con un altro Faceva il corna a casa Quello il marito che lavorava E lei stava a casa a fare... Ma che... Ma che c'è stata... Ma signorina Ma che c'è stata... Ma che vè? Ma che ma fa? Ma che storia è? Ma che c'è non porta a noi? Cioè non è il luogo adatto Dove parlare di corna Di dei? Tipo una love store Tutta cornificata Esatto Esisteva già Maria dei Filippi Ai tempi E per questo che me la ricordo E infatti dubitavo Io della moglie non so So che aveva dei figli Cornuti pure loro a quanto pare Mi scusi signor Presidente Ma mi tocca dirlo Questi figli avevano tutti un difettuccio Avevano un occhio solo Avevano un occhio solo Ma due corna enormi Oltre che di vulcanologia Pure una lezione di mitologia Avvocà ma che ma fa? E quindi? E mitologia Che ma fa? Affronterò Affronterò Continuo sempre a ripeterlo Affronterò Ma fa che leggo buo Avvocà ma tanto ormai Affro ma fa che leggo buo Tanto ormai E decisi pariamo E pariamo A questo punto della puntata Ci troviamo ai primi E veri I propri esami Gli esami iscritti Infatti a questo punto della puntata I collegiali si apprestano Per render parte Al temutissimo compito di matematica E a quanto pare Sono tutti da Enzo Bidet A non confondere con Enzo il Bidello Perché Enzo Bidet È la versione francese Ci devi fare una grazia Enzo Devi distrarre la Pietolicchio Ah attenzione Quindi stanno cercando Di ricattare Enzo Bidel Deve praticamente distrarre la Pietolicchio Gli esami iscritti Gli esami iscritti Gli esami iscritti Sì Sono anche Enzo Bidel Entri in classe Cerchi di entrare nelle sue grazie Grazie Graziella E grazie a Enzo Bidel Enzo è l'unica persona Che ci può salvare Io non mi fiderei mai Di Enzo Bidel A uno come Enzo Bidel Vestito veramente Come grande buffo E nemmeno loro Gli chiederei Buongiorno Enzo Buongiorno Vestoressa Buongiorno Ma che te come sei vestita Per se stessi a Petolicchio Pado a jugare a binire Andrei Andrei Testa di c***o Avete visto Ha chiamato Andrea Non si è alzato Testa di c***o Si sarà sentito di chiamare E si è alzato Il momento è serio E mi aspetto da parte di ciascuno Il massimo impegno Soprattutto dalla parte di Enzo Bidel Voglio veramente vedere In che modo L'estofante Riuscirà a distrarre la Petolicchio A questo momento in poi 45 giorni A partire da adesso Per terminare il vostro compito Di matematica Un peto gigante Nessuno scorreggi In aula Prezioso È una collaborazione Tra gemelli Ma poi tra l'altro Prezioso sta copiando Veramente Dal genio della classe Oh Milord Non l'avevo vista Arrivare Il suo cavallo bianco Oh Suona la porta Buongiorno Ah grande buffo Dovrebbe andare in presidenza Che è arrivata Una telefonata urgente Enzo Bidel Ma che scusa è Cioè Durante Sette stagioni Non ha mai chiamato nessun muore Al momento dell'esame Di matematica È arrivata una chiamata Urgente alla presidenza Signorina Petolicchio Anche lei Ma non ci caschi Durante lo svolgimento Della prova d'esame Sì sì Stia tranquilla Enzo Bidel è talmente curto Che veramente Quando deve scendere dal letto Praticamente fa un saltino Perché non ce la fa manchissima Starò qui come se fosse lei Enzo Bidel Gustafà Ce la può piacere Enzo Bidel Mi raccomando Stia tranquilla Stia tranquilla Ma stia tranquilla Ma signorina Petolicchio Ma che sta succedendo Ma non si fidi Di Enzo Bidel Tornerò prima possibile Ma veramente se ne sta andando Cioè veramente Cioè veramente Cioè veramente ci ha creduto E solo a me Questa sembra la scena più finta Che io abbia mai visto All'interno di un programma tv Chiedo per Enzo Bidel E secondo te guaccio La faranculo Sto sicuro che adesso Cioè Enzo Bidel Ogni volta che deve Farsi rispettare Dice sempre la sua Saccato santa frase Oh regà Oh regà Oh regà Oh regà Piano piano Dono Oh 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 Guardate come ve lo sto dicendo Ma magari Ti licenziaste Guarda Enzo Bidel Magari Grande Enzo Bidello corrotto Per la gang Enzo il Bidello corrotto Mi piace Ho fatto chiamata Un mio amico Ho fatto chiamata Ma 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 Enzo Bidel Ma non ci sa Alcuna Struzzata Ma quando mai Ma chi è amico Ma che c'ha Gli amici Tu Enzo Bidel Chi sono gli altri puffi Chi ha chiamato La gamella Sta tornando Sta tornando Oh sta tornando Maglio Tutti seduto Tutti seduto Enzo Bidel Tu non ti puoi Se tu non sei Tu non sei Tu non hai Tieno ragione Sono con Bidel Grazie Enzo Ma grazie a che cosa Ma stava cadendo Enzo Bidel Ha avuto un mancamento Un calo di zuccheri Corretti i compiti scritti Il presidente Decreta Chi sono gli ammessi All'orale E sono tutti Quindi non c'è nessun Corpo di scena Sono tutti ammessi All'orale Gli danno anche Una possibilità Al signor prezioso Che ha sbagliato Qualsiasi cosa Ha sbagliato pure Il suo cognome Quando ha consegnato Il compito Però è stato ammesso Ma secondo me Proprio per punizione E quindi adesso Vogliamo subito I temutissimi Esami orali Dove ovviamente La signorina C'è dio Vava là Vanno alla stragrandissima Però adesso Mi preoccupo Perché ci sono sempre C'è l'avvocato Se l'avvocato non ce la fa Poi ci rimango male Piango come un bambino Gli esami orali Hanno preso pieno ritmo Buongiorno Si accomodi Ehi eh Buongiorno È il momento di Andrea prezioso Ma lui è un nano O la maniglia L'hanno messa Cioè Sopra il soffitto Hanno attaccato Come si sente Strano Ho paura C'ho un attacco De squad house È pronto a affrontare l'esame Ma io non riesco a distinguerli Cioè Non riesco a capire Se è uno o è l'altro Cominciamo dal professor Maggi 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 È Maggi cagaturali Chi ha scritto I promessi sposi No Questa è semplice Mi piace Questa è semplice Dante Facciamo finta di Non aver sentito niente Facciamo finta che questa cosa Non sia mai avvenuta Ma come Dante Ma come Dante Ma come Dante Ma come ti viene in mente Di dire Dante Sta scherzando naturalmente Sto facendo simpaticone Signore prezioso Ci dica la verità Un indizio della lettera Ah Bucchini Mammt No signore prezioso Questo non è un villaggio turistico Alessandro Manzoni Alessandro Manzoni Alessandro Manzoni Assafamarone Ci sono i protagonisti Dei promessi sposi E non sono né Spider-Man Né Batman Ma come che ne sai Cioè Ma poi erano argomenti di esame Quello che c'è Tu sapevi di doverli studiare Perché non l'hai fatto Cioè Al collegio Tu Esattamente Che ci stai a fa All'emmelle faccio Ma si ricorda più Eh si Tu non capisci un studio Poi diceva Boh Lo studio Elimina Svuota cestino Romeo e Giulietta Romeo e Giulietta Cioè E sta Cioè Pur quando spari Minchiate Cioè Prima o poi Una la zecchi Ma nel tuo caso Mai La donna si chiama Giulia Ma che Giulia Luca La donna si chiama Luca Sarà una storia strana Questa che hai letto tu Il protagonista maschile Comincia per R Romolo Romolo e Remolo Renzo e Lucia Renzo e Lucia Renzo e Lucia Mamma mia Cioè Mamma Un parto anale Stato Ho azzeccata Tu No ma tu hai azzeccata Si ma non cuofi Ni figure Merda Mr. Precious Mr. Precious I so fucking love you Look my fucking face Eh yes Non credo che sia la pronuncia Esatta Però quantomeno è corretto Anche se è plurale And this part Capelli Capelli Ah i capelli Ma come no I famosissimi capelli Eh quello che gli manca Tu già sai se li conosci in italiano Gregor Mendel Le dice qualcosa Eh il centrocambista dell'Inter Ma signor prezioso Anche lei Si concentri Gregor Mendel Quello dei fiori Esatto Faceva il fioraio Gregor Mendel Ma un esame Ho stato accuntando I barzelletti Si accomodi Signorina Scarano Oh mamma Signorina Scarano Ma Cos'ha in mano Signorina Scarano Ma che ha portato Il quadretto di famiglia Questo è Porta Fortuna Il quadro della Petolicchio Mamma mia che ansia Meno al bagno lo metterei Ha deciso che sarà il suo Porta Fortuna Più che Porta Fortuna Ma parla di Porta Fortuna Chi Si accomodi Si un attimo Che stai cercando La pistola Che cosa c'ha nel taschino Sono soldi quelli Ma non è questa una bellissima cosa Secondo me Né da vedere Né da fare Cioè praticamente Gli sta ricattando Ma che sta facendo Cioè veramente Gli sta dando Cioè lei è veramente Convinta di fare Cioè gli sta dando Dei soldi Cioè sta dando Dei soldi ai professori Credo che questa sia L'immagine più sbagliata La cosa più sbagliata Da fare in qualsiasi circostanza In qualsiasi lago In qualsiasi luogo Ma poi a dar mille lire C'avese dato Un milione di euro Capirei Ma a mille lire Non si comprano nemmeno Le goliadotte Noto che non l'hanno presa Molta bene Non l'hanno presa Molta bene Pur secondo me Di lei Che tipo di ragazza è Chi? Mela gas? Cosa è un verbo? Un concetto Si chiama Mela gas Mela Mela gassata Jerry un aiuto da casa Che era un concetto Che si chiama Mela gas Mela gas Mela gas Ah Mel Gibson Prego Si è come Un po' rigido L'avvocato di Pierro Ma che c'è una mazza Di scopa Nellì dietro Abbiamo parlato In una classe Della flertare Flirting Ma perché bisogna Sempre parlare di flirt Con l'avvocato di Pierro C'è L'avvocato e l'amore Sono proprio due rette parallele Che non si incontreranno mai L'avvocato di Pierro Volevo vedere il tuo approccio Con una ragazza Oh hi Oh hi Avvocato di Pierro Ma lei è già rapace È venuto già rapato da casa Delle belle che cose Solo queste qua Queste qua di sotto Ti fanno schifo Ma che devo giocare Avvocato ma 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 ha capito che deve corteggiare Una ragazza E non deve fargli venire Dei traumi In che guaio Mi sto cacciando Ma è una conversazione erotica Questa Con me vuole giocare Avvocato Capisco la simpatia L'apprezzo e la stimo Però cioè Scendiamo il lavoro Adesso dalla Nella sessualità Mamma mia Cioè l'avvocato vuole giocare con me Se divento politico Il presidente mi vota Yam gay cats Arriviamo al momento Tanto atteso Nonché alla consegna Dei diplomi Che ad essere sinceri Io mi aspettavo Che qualcuno venisse bocciato Ricordiamo che però In questa edizione del collegio E' stata fatta una strage E l'unico Ad essere stato bocciato E' stato uno dei due gemelli prezioso E io direi grazie Gra finalmente una buona notizia La cosa più bella che però Mi fa esplodere il cuore di gioia Perché il miglior collegiale Maschio E' stato l'avvocato di Piero Avvocato grazie Secondo me se non ci fosse stato lei Io non avrei avuto il coraggio Di portare al termine Tutte queste otto puntate di reaction Al collegio Quindi grazie di cuore Avvocato di Piero E quindi Dopo che si chiudono Le porte del collegio Si chiude anche questa Quinta stagione del collegio Ragazzi Ed è stata veramente lunga Io vi ringrazio di cuore Di aver seguito la reaction con me E' stato snervante A tratti Ma soprattutto Però ragazzi Se voi sapete la vostra opinione Qui sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Di questa edizione del collegio È stata un flop La promuovete a pieni voti Fatemi un vostro giudizio Proprio dettagliato Qui sotto Nei commenti Lascerò quanti più like E cuori a tutti Qui dal quartiere generale Di Awe Dove 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 È tutto E noi Ci rivediamo Nel prossimo video E vi lascio Con una piccola massima E' inzuppite E' inzuppite Ma che amma fa Che amma fa E' inzuppite Che amma fa E' vabbè che è vabbè Ma che amma fa Inzuppite Avvoga pure lei Avvoga Lei è rapato Ciao Ciao